Tu sai come si chiama il gruppo che suona? Eco Ehm... Eco Perché si chiamano Eco? Perché si suona per l'ambiente e la musica nell'ambiente Per ragioni... Eco... Solidari Ehm... Ci ho pensato devo dire Ehm... Ma non ho un'idea Non lo so E perché Eco? Con la W finale Perché è una cosa in francese che suonava molto bene Visto che Sara ha un background francese se lo potevano permettere E che significa Eco? Eco, giusto? E se invece Eco fosse il modo francese di dire Eco? Sarebbe... Ci sarebbe un Ac Ah si eh Ehm... 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 Un parere rapido Questa serata Il mio cuore di pietra si è sciolto Sono veramente commosso Molto 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 brave Veramente bravissime Ehm... Ehm... Bellissimo e straordinario Sana dal mio intenzio aggettivo Briou Ehm... 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 Eccellente... Ehm... 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 Bellissimo, veramente affiatate, si vede... Misterioso? Misterioso! Niccolò, io non mi faccio riprendere... Tre aggettivi... La piange, la piange, la piange, la mente la piange! I'm just a going over, children, I'm just a going over, home, I'm going over... Inecepi, disponibile! Intrigante! Do buffalos used to say, you roll the way you roll Do buffalos used to say, you do what you do Do buffalos used to play, ok? Non colore? Blu Verde Verde perché verde? Io vedo i tuoi occhi Un successore direi no? Si Cioè non lo so questo lo vedete voi E' un po' brutto se lo diciamo noi Successore no? Molto successo Successore no? Soddisfatta della compagnia che è venuta? Pubblico affezionatissimo Di certo ci è piaciuto Noi ci siamo proprio divertiti Ogni volta che le sento Mi riempio di emozione